Sentirete alcuni brani come di Blubossa, Autulins rispettivamente di Kenny Doram e di Joseph Kern poi sentirete alcuni studi di Bob Minzer del volume avanzato e poi facciamo una rappresentazione ridotta del pezzo che siete invitati tutti a ascoltare domani al saggio per quattro sassofoni sarà per orchestra però qui facciamo suonata la versione per quattro sassofoni di Storm Moment di Oliver Nelson e spero che vi piaccia un buon ascolto grazie allora, i musicisti che aprono le danze tra virgolette, Fulghi e Tonesi a giù sopra Massimo Camozzi da Roccia un pezzo con Blubossa 1, 2 1, 2, 3, 4 a giù sopra ma a giù sopra Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.